generalmente trascorro le mie giornate lavorative all'interno di un coworking un coworking è fisicamente uno spazio di lavoro condiviso con altri lavoratori digitali da un punto di vista immateriale un coworking rappresenta un'opportunità di crescita professionale grazie allo scambio di relazioni conoscenze con altre persone non per forza del tuo ambito di azione questi spazi sono una grande opportunità anche perché offrono una serie di servizi a costi vantaggiosi per chi come me ha la fortuna di portarsi l'ufficio in spalla magari un giorno ti capiterà di incontrare uno degli sviluppatori della community like a coffee in uno dei coworking sparsi per il mondo